gentili telespettatori buona giornata essi i giornaloni fiancheggiatori della sinistra quando mattarella rimprovera tutta la sinistra i suoi fiancheggiatori di insultare offendere meloni dove i suoi elettori quelli più estremi vanno a bruciare le fotografie i fantocci quando mattarella in maniera clamorosa che non aveva mai fatto prima rimprovera un'area politica quella che si definisce democratica dicendogli praticamente guardate che forse quelli che non sono democratici siete voi tutti i muti i giornali fiancheggiatori hanno veleggiato raccontando di altre cose a salvini che litiga con la meloni ma mattarella ha detto che ecco hanno fatto bellamente finta di niente nulla silenzio il giorno dopo invece mattarella telefona piante dosi e dice i manganelli sui ragazzi sono un fallimento io l'ho interpretato in un altro modo però i giornali fiancheggiatori della sinistra hanno detto e vai il giorno dopo riequilibria e attacca il governo e allora i giornaloni fiancheggiatori della sinistra titolano 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 a caratteri cubitali lo sdegno di mattarella praticamente l'attacco al centrodestra titoloni l'attacco al centrosinistra tutti i muti e io vi dico ma questo è giornalismo insomma si definisce giornalismo perché lo è ma i risultati sono decisamente se voi in italia volete oggi aprire un giornale e capire che cosa è veramente successo oggi non è impresa facile aprite un giornale vi parla di somma oro aprite un altro vi parla di e voi dice covid ancora ne aprite un altro e vi dice salvini e meloni litigano a governo a rischio ne aprite un altro e vi dice mattarella sdegnato e voi dite ho aperto sei sette giornali e hanno tutti titoli diversi ma allora dov'è la gerarchia delle notizie quando tu con un colpo d'occhio capisci i fatti di oggi e quello che realmente è importante o no ci sono ancora giornali che mettono una gerarchia delle notizie delle notizie delle notizie ce n'è solo uno tra i giornaloni grandi che è il corriere della sera se voi prendete oggi la prima pagina del corriere della sera vi accorgerete che c'è la famosa gerarchia delle notizie può esserci come notizia più importante un fatto internazionale un fatto nazionale politica o cronaca il corriere della sera ancora adotta la gerarchia delle notizie fatto più importante poi c'è quello a destra quello a sinistra quello al centro e quelli in basso in prima pagina con una precisa motivazione sulla gerarchia delle notizie quindi voi con un colpo d'occhio del corriere della sera capite se è successo qualcosa di grave nel mondo in italia se voi aprite gli altri giornali ma magari vi parlano di somma oro e poi scoprite che non so un paese è stato invaso da un altro in seconda o terza pagina neanche c'è scritto dice ma come è più importante la notizia su somma oro perché è un giochino politico fra destra e sinistra serve per strumentalizzare l'opinione pubblica o è più importante un paese che è stato invaso o il parlamento che per la prima volta ha fatto una roba no ecco quindi se voi siete elettori di quel giornale di quell'altro di quell'altro mettetevi il cuore in pace che voi non capirete mai quali sono davvero le notizie importanti del giorno vi mettono in prima pagina quello che serve per strumentalizzare l'opinione pubblica che legge quel giornale quindi sui giornali di sinistra troverete tutto lo schifo che fa il governo e voi direte cavolo lo sanno tutti sui giornali di destra troverete tutto lo schifo che fa la sinistra che sono degli inetti poi direte ma poi la notizia più importante qual è tutto strumentalizzato politicamente tutto strumentalizzato per creare e rafforzare le tifoserie politiche chiaro sul giornale di sinistra non troverete mai una parola di elogio verso la destra sul giornale di destra non troverete mai una parola di elogio verso un qualcosa che fa la sinistra mai solo di qua fa tutto schifo e di qua fa tutto schifo il lettore compra il giornale dice ah di là fa tutto schifo lo so che bello e il giornale di qua dice di là fa tutto schifo nel senso del ti piace vincere facile no tan 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 zan 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 quindi tu voti destra o voti sinistra ti prendi e ti leggi il giornale di destra o sinistra e vedi che di là fa tutto schifo di là fanno proprio schifo e sei felice contento per la giornata per tutta la legislatura perché di là fanno solo schifo è vero no di là possono fare schifo e possono fare le cose anche giuste come dall'altra parte quindi è questo il punto che se volete davvero con un colpo d'occhio capire oggi cos'è successo se c'è qualcosa di clamoroso o niente prendete la prima pagina del corriere della sera con un colpo d'occhio e potete evitare anche di guardarvi il telegiornale che avete capito realmente se oggi è una di quelle giornate da approfondire oppure oppure no capite se è successo qualcosa in politica di serio oppure no naturalmente anche il corriere della sera ha le sue inclinazioni politiche chiaramente però le camuffa molto bene le camuffa molto bene e è molto molto imparziale cerca di essere imparziale questo è l'importante nessuno imparziale però l'importante è cercare di essere ecco forse la parola migliore non è imparziale ma obiettivo obiettivo perché i giornali fiancheggiatori di sinistra e destra cosa fanno si inventano gli articoli si inventano i titoli si inventano i virgolettati manipolano le notizie le trasformano le fanno sembrare un'altra cosa non è proprio un panorama editoriare edificante quello che c'è in italia dove dove alla fine è solo un giornale no ma c'è anche quello 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 che ti dice che il covid è la notizia più importante ogni giorno nel 2024 non proprio quello non mi sembra proprio che la gerarchia delle notizie siano proprio quello lì gerarchia delle notizie cose importanti non mi puoi dire ogni giorno parlare del covid e basta no arrivederci a tutti e grazie